Luigi ho saputo che l'unione civile tra quei dinosauri di chi è stata negata dal giudice ma tu puoi che città non so allora? Ha detto che è meglio così, Maria! Non stanno i valori una volta, roba questo che fanno, Tottene Goomba! Luigi mannaccia Marino Goomba si dinofobico ma non sai che ci vuole tutti quelli per fare l'arcobaleno? Tranne io Non ci vuole unire per fare l'arcobaleno No! 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 No!